I capelli di Miriam sono dei capelli che rendono veramente tanto. Io ho già lavorato con lei e quindi li conoscevo un po'. Lei ha un tipo di capello scalato, una media lunghezza, con un movimento molto naturale che anche quando lo lavori poi lo disordini e rende bene. Lei ha questo look misto tra il sofisticato e il selvaggio che per il suo viso è eccezionale. Grazie per la visione!